Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente siamo tornati con dei video appositi su Revit spero che a voi vada tutto bene, siamo quasi a ridosso della pausa estiva, dell'estate fatemi sapere anche sotto come vi va il lavoro, come vi trovate con Revit e quanto caldo avete sentito in questi giorni a parte questa piccola degressione, oggi vediamo come realizzare dei soffitti cassettonati magari realizzati ovviamente in cemento armato, in un modo molto semplice su Revit che non vi farà perdere molto tempo ma comunque che è attendibile sia dal punto di vista computazionale che realizzativo, diciamo così quindi su Revit apriamo un nuovo file, un modello architettonico, quello che sia e cosa andiamo a fare? Andiamoci subito a creare un tetto, una nuova copertura, magari impostandola piano primo io vedi non ho toccato nulla del file di base di Revit detto l'altro cementizio lo andiamo ovviamente a modificare facciamo un modificativo, lo duplichiamo, lo chiamiamo soletta passatemi il nome del tipo ma è giusto il titolo esemplificativo andiamo a modificarne la struttura, cancelliamo tutto ciò che non ci serve lasciamo solo la struttura, magari la chiamiamo appunto calcestruzzo lo chiamo direttamente calcestruzzo perché so che questo materiale è caricato di base nel template architettonico gli diamo uno spessore di 30 cm ovviamente questi sono tutti dati buttati diciamo un po' a caso perché ovviamente non stiamo ora analizzando la parte strutturale ma solo la metodologia diamo quindi ok e andiamoci a creare il nostro tetto, magari lo faccio un pochino particolare abbastanza importante ho fatto questa procedura, ce lo spostiamo un po' al centro ovviamente a te servirà nel tuo architettonico, nella tua struttura dando l'ok e noi andandoci a spostare nel 3D cosa vediamo? vediamo il nostro bellissimo solaio, la nostra soletta a questo punto quello che dobbiamo fare è molto semplice andiamo non nel piano terra ma spostiamoci nel piano primo una volta nel piano primo chiudiamo il piano terra perché non ci serve più e andiamo su inserisci andiamo su carica famiglia ci spostiamo sotto telaio strutturale calcestruzzo calcestruzzo tra rettangolare diamo apri quando ho iniziato la professione ho trovato tante difficoltà nell'affrontare da solo un progetto mi domandavo sempre come faccio a sapere come e quanto costruire, quale normativa seguire quali sono e quanti sono i documenti da rappresentare come stimare il costo di un fabbricato nella fase di prefattibilità come si sviluppa un computometrico estimativo come devo impaginare per rendere di facile lettura le tavole per l'ente comunale cosa devo rappresentare come esecutivo da girare all'impresa per il cantiere come si scrive una relazione tecnica con questo corso avrai solide fondamenta per innalzare il tuo impalcato professionale capirai il funzionamento del programma e di molti meccanismi collegati alla professione ricorda Revit è uno strumento nelle tue mani devi essere veloce, immediato e diretto per poter affrontare la concorrenza e rendere un servizio di alta qualità ti sei mai chiesto perché dei potenziali clienti dovrebbero scegliere te invece di un altro professionista? grazie a questo corso imparerai ad essere efficiente, veloce e professionale e preciso nei dati perché sfrutterai la potenza di un software BIM nel modo più intuitivo e veloce possibile che gioverà sia la tua attività che i tuoi clienti andando ad abbattere costi e problematiche burocratiche e di cantiere per seguire il corso vai nel link che ti lascio in descrizione al video, nel primo commento o nella scheda qui in alto in modo tale da avere sempre l'offerta più vantaggiosa per poter prendere il corso che potrai visionare da qualsiasi dispositivo e lo avrai sempre a disposizione senza scadenza ora ovviamente non ci succede nulla perché cosa dobbiamo fare? andiamo su struttura, sistema di trave selezioniamo il percorso del nostro solaio con tab ovviamente più volte lasciamo questa orditura principale nel primo caso poi nel secondo sistema di trave vediamo come modificarlo diamo ok e con lo strumento attivo una volta che diamo l'ok ovviamente ci viene automaticamente selezionato andiamo a selezionare il tipo di trave che abbiamo caricato qui è caricata la 40x80 cm altrimenti abbiamo la 30x60 cm oppure le travi in acciaio che sono caricate di default se hai necessità di cambiare questo tipo di dimensione andiamo qui su trave eccola qua, telaio strutturale trave rettangolare abbiamo due qualità ne vogliamo mettere un'altra tasto destro duplica la chiamiamo, ora andiamo sempre a caso 600x1200 esageriamo mm, non ce l'ho scritto doppio clic col tasto sinistro andiamo a modificare qua quindi 600.6x1.2 così hai tutte le tue magari scriviamo in modo corretto 1.2 hai tutte le trave che ti servono a parte questo torniamo ora togliamo il filtro torniamo a selezionare vedi io seleziono il sistema di trave quando mi fa vedere il sistema selezionato così seleziono il solaio così seleziono il sistema di travi utilizzo la 40x80 mi va bene a una distanza di proviamo 1.5 un metro e mezzo non so stiamo facendo tutto ad occhio ora nuovamente tab per selezionare il sistema di travi cs per creasimile o in alternativa vai a riselezionare il comando nuovamente seleziona le linee del nostro bordo del solaio tab più volte per selezionare il percorso e ora dobbiamo andare a cambiare l'orditura che non è più questa quindi la direzione delle travi la selezioniamo mettendoci magari anche qui al centro verso l'alto io voglio un'orditura che mi sia perpendicolare al lato lungo fatto questo quindi non serve che abbiamo l'orditura segnata in uno spigolo va bene anche al centro diamolo ok e ci viene creato quindi un secondo sistema di travi che se andiamo nel 3D vediamo che ci fa il nostro soffitto cassettonato in modo corretto giuntato in modo correttamente anche per una corretta computazione e se invece di una copertura piana avessimo una copertura curva come possiamo fare? perché sappiamo che il sistema delle travi o le travi lavorano soltanto su un piano orizzontale o comunque inclinato ma non curvo quindi in situazioni particolari quello che possiamo fare ora lo vediamo subito è andarci a creare per prima cosa un componente modello locale come massa ci devono realizzare quindi una massa ovviamente ci viene detto che bisogna attivare la funzione massa quindi una volta che creiamo il componente massa ci viene attivata in automatico benissimo chiamiamola massa 1 va più che bene nel nostro caso ci spostiamo magari in una vista dall'alto ovviamente tu questo lo farai per la tua copertura e selezioniamo dei nostri punti che andiamo a posizionare in un piano in questo modo io lo sto facendo veramente ad occhio ovviamente selezioniamo i punti centrali e diamo un offset di 2 metri ad esempio in questo modo selezioniamo questi 3 punti e li andiamo a dare la funzione di spline passante per più punti stessa cosa per questi 3 questi 2 li chiudiamo in questo modo e anche questo e questo andiamo a creare quindi un nostro circuito chiuso in questo modo selezionando questa superficie andiamo a fare un crea forma un solido molto velocemente fatto questo abbiamo il nostro solido possiamo terminare la massa una volta terminata la massa architettura tetto tetto da superficie e selezioniamo la nostra superficie diamo crea tetto e abbiamo il nostro tetto magari non lo vogliamo sviluppare all'intradosso della nostra superficie ma lo vogliamo sviluppare all'estradosso quindi molto velocemente spostiamo la superficie inferiore del tetto in modo tale che la nostra superficie ora sta sotto diciamo che la nostra base della conformazione del tetto a questo punto come detto il sistema di travi non funziona più quindi per ovviare a questo problema cosa possiamo fare io mi sposto sempre dall'alto e mi vado a realizzare sotto struttura una trave reticolare Revit mi dice attenzione nel tuo progetto non è caricata nessuna famiglia di trave reticolare lo vuoi caricare facciamo sì andiamo a selezionare T per travi reticolari strutturali apriamo magari la trave O è piatta in questo modo facciamo apri e semplicemente selezioniamo magari crea asta corrente inferiore perché la togliamo e come posizionamento piano terra per ora ci va bene andiamoci a tracciare le nostre travi le possiamo fare in questo modo singolarmente oppure avendo creato la prima trave la selezioniamo possiamo fare sia WC per copia oppure andiamo a realizzare la nostra matrice dove all'ultimo nodo che andiamo a cliccare quindi l'ultimo punto della nostra matrice della distanza andiamo a mettere ad esempio sei elementi quindi da questo punto ci spostiamo a questo punto per un totale di sei elementi poi andare a crearci una nuova trave reticolare sempre con cs nel senso opposto da questo punto a questo punto e nuovamente selezioniamo creiamo la nostra matrice magari anche qui per sei elementi da questo punto andiamo verso questo punto fatto questo passaggio ruotiamo la nostra schermata magari il nostro tetto lo possiamo anche andare a fare un offset per spostarlo più in alto oppure abbassiamo le nostre travi è la stessa identica cosa magari in questo caso giusto ad esempio ci alziamo col tetto possiamo anche cancellare la superficie non ci serve più ora come puoi vedere le travi sono abbastanza caotiche noi selezioniamo una famiglia e andiamo su modifica famiglia in questo modo nel nostro diagramma della famiglia andiamo a cancellare tutti gli elementi che compongono la trave strutturale lasciando soltanto la parte superiore carichiamola nel progetto la soffrascriviamo a questo punto selezioniamo una qualsiasi trave abbiamo la nostra trave standard andiamo su modifica tipo e come tipo di telaio strutturale magari andiamo a inserire la nostra trave 40x80 o la 30x60 ci va bene la 30x60 tipo di telaio strutturale diamo ok ci viene modificato la nostra trave andiamo a selezionare ora le nostre travi facciamo un bel filtra togliamo il telaio strutturale perché non ci serve selezionare gli elementi trave reticolare strutturale associamo la parte superiore alla nostra copertura e ci viene realizzato questo aggancio ovviamente lo dobbiamo cercare di fare per tutti gli elementi quindi siamo attenti a selezionare tutto di nuovo filtra soltanto trave reticolare che ci serve agganciamolo e adesso facciamo la parte superiore in questo modo abbiamo ovviamente in questo caso l'esempio è esagerato ovviamente nel tuo caso avrà una funzione completamente diversa in questo caso comunque abbiamo il nostro soffitto cassettonato correttamente inserito in una struttura curva ovviamente anche qui andiamo a selezionare di nuovo la nostra la nostra famiglia di trave reticolare possiamo andargli a cambiare l'elemento per renderlo ovviamente conforme ai dati di progetto bene spero che il video ti sia piaciuto io ti invito sempre a lasciare un like a scrivere nei commenti a farmi sapere magari una tua opinione un tuo metodo di lavoro e anche di vedere il mio patron dove troverai questa famiglia caricata molto semplice e soprattutto nel link in descrizione o nel primo commento troverai il link al corso di Revit che ho fatto un corso professionale che ti permette di portare un progetto dal preliminare fino all'esecutivo in cantiere passando anche per il computometrico noi abbiamo finito con questo breve video e ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie a tutti.